In effetti come dormono gli squali? Non dormono, o dormono? Certo che dormono, come fanno? Si appoggiano nella sabbia dei fondali marini e dormono, oppure rimangono a fluttuare nella... Quando lo so come dormono, sto dicendo festeria, non mi sono mai posta questa domanda Fluttuare nella... dammi il tuo telefono, aspetta Cioè, come dormono gli squali? Ora lo cerco E ragazzi, come va? Io sono Fieri Niki E io sono Stef, questo giochiamo a Raft Ebbene sì, e benvenuti in quello che sarà l'ultimo episodio di Raft Nooo Reazione dei consolini a caldo Così, con questa voce Vi spieghiamo immediatamente il perché C'è un buon motivo per il quale questo è l'ultimo episodio Abbiamo letto nel blog ufficiale degli sviluppatori del gioco Che sono tre ragazzi che stanno andando all'università Che questo gioco loro l'hanno fatto come lavoro universitario Quindi era un progetto universitario Sì, l'hanno fatto proprio come progetto finale di un corso Esatto, anche questo è stato E non si aspettavano che avrebbe avuto tutto questo successo enorme E purtroppo hanno anche detto che non riusciranno più a fare aggiornamenti grossi fino all'estate Ovvero quando finiscono l'università Esattamente, perché sono all'ultimo anno dell'università Quindi non si possono permettere di dedicare tanto tempo a questo gioco Anche se sta andando così bene Di conseguenza, questo è Raft Questo è il gioco che rimarrà così fino all'estate Secondo noi non ha senso portarlo più avanti di così Quindi questo episodio faremo appunto Faremo Faremo Stai parando nuove lingue La torre altissima per cercare di arrivare al cielo E chiuderemo così questa serie Perché credo che anche voi l'avete capito Non c'è molto da fare E se non ci saranno aggiornamenti fino all'estate Non ha davvero senso Però C'è un però Vogliamo dirlo? Sì Secondo me l'ho colta all'altro vista e non so cosa dovrebbe dire No, lo so Vai Lo so, aspetta Stranded Deep Esatto Sono un genio Perché io quando mi dice le cose non è che le ascolto poi così tanto Quindi me le dimentico E succedono queste cose poi nei video però Sono intelligente e mi devi ascoltare Non tanto Spieghiamo in fretta per chi non conosce Stranded Deep Stranded Deep è un gioco molto simile a Raft Dove appunto partiremo da una zattera però in realtà è un FC gomone Arriveremo in un'isola deserta e dovremo sopravvivere E' un gioco uscito l'anno scorso che molti hanno fatto su YouTube E' stato quindi sviluppato per un anno intero E risulta pieno di contenuti rispetto a Raft Quindi Secondo me dovendo chiudere questa serie così Stai morendo di sette Pensa a sopravvivere qua piuttosto che a parlare solo di Raft Perché ci manca solo che perdiamo tutto Grazie, grazie, grazie Meno male che ci sei Puoi continuare Quindi dicevo che potrebbe essere un'idea finire questa serie E iniziarne una lì Perché il gioco potrebbe essere addirittura più figo di Raft Sondaggino, commenti, likes, di tutto Fateci sapere se vi piace come idea E adesso Celebriamo questo ultimo episodio di questo gioco fantastico Con la torre che vogliamo fare Ovviamente ci siamo preparati con la legna Perché non potevamo non farlo E siamo prontissimi Non so se basterà Perché dovremmo farla davvero proprio gigante, gigante, gigante Avevo fatto una piattaforma così larga, ok Però sinceramente ho cambiato idea Perché noi abbiamo fatto la strada della salvezza Lunga ma fine E pensavo di fare anche una torre alta ma proprio fine, fine, fine Quindi farla minimale ma altissima La piattaforma lasciala e costruisci quanto ti pare Perché se ci mettiamo a distruggerla Aiuto Ci vuole una vita Stavo cadendo Ma questa anche secondo me va fatta proprio fine Diciamo il tanto giusto per riuscire poi a salirci È solo uno spreco E alta, 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 alta Sarebbe più bella, ok Ma sarebbe soltanto uno spreco di legna Che ci impedisce di andare ancora più in alto No, poi rischiamo che magari per farla bella Non riusciamo ad arrivare troppo in alto, capito? Esatto Sarebbe terribile Come vuoi Vediamo se riesco a piazzarla Sì E poi mettiamo appunto i vari floor Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove Ok E questa è la piattaforma basilare Adesso se noi ci riusciamo Perché quella è l'idea che io avevo Di mettere la scala qua così Eh ma non è che poi vai sempre a stringere? La scala va così E continua all'infinito sempre la stessa grandezza Credo Dici? Credo di sì, dovrebbe funzionare Parlando di Stranded Deep ci siamo dimenticati di dire il nome che abbiamo deciso per la torre Io non me lo sono dimenticata Non c'era bisogno di precisarlo Allora ci tengo a precisare che ci sono stati proposti davvero tantissimi nomi fantastici Tantissimi Quindi la scelta è stata davvero difficile Però secondo me il più azzeccato è stato l'isola di Oltre Nuvola Perché noi infatti cercheremo di andare oltre le nuvole proprio in altissime E non c'è bisogno di urlare però Ed è quello, sì perché mi piacciono queste cose, capito? Sono molto felice di fare la torre E mi piace molto anche questo nome Ok Guarda l'orizzonte Oh Mi vado proprio per la linea nera, è stranissimo Vedi questa era la pro Se ne avessimo fatto prima la torre avremmo avuto la prova che c'era la fine del mondo Lo so, abbiamo fatto un po' di errori Sì, abbastanza Però l'importante è riprendersi bene Ok Guarda lo squaletto lì sotto, sembra minuscolo Ciao Ciao È ancora Rosetta poi Sta durando Perché abbiamo smesso di ucciderla Abbiamo smesso di uccidere gli squali Quindi quella è ancora Rosetta È vero Vengo a precisare proprio che è ancora lei Qua riesco a mettere un pilastrino? Sì Ok Io non Non ho il coraggio di vedere cosa può essere da sotto No, da sotto Non la guarderemo mai più Guarderemo solo verso l'alto Consolini non vedrete mai che cos'è da sotto Perché vi discrivete dal canale Secondo me Quindi non saprete mai esattamente che cos'è Ma secondo me ci amano proprio perché facciamo Le schifezze Queste cose molto contemporanee Capito? E particolari E poi ascolta Su Youtube Se tu vedi anche in quello internazionale Fanno tutte cose fighissime Cioè nessuno fa le cose brutte E dico io Ma chi accidenti è che sa costruire sempre benissimo nei giochi? Nessuno Quindi almeno noi facciamo vedere il nostro lato E' per essere più persone normali Capito? Sì Perché noi facciamo schifo E non ci vergogniamo di dire che facciamo schifo Guarda che tuffo ti faccio Certo Che dovi fare? Sei pronta a vederla? Io rido se in questo momento avessero messo i danni da caduta Sei pronta a vederla? Sì Quanto sei in alto? E' terribile Però non so perché Non so perché Solo per te No A me piace Per me è una delle cose più brutte che ho mai fatto nella vita Io apprezzo sempre tutte le cose che facciamo Quindi Beata Sto bene così grazie Beata a te Allora Continuiamo Ma è meglio non pensare a ciò che ho appena visto Sta andando sempre più storta secondo me E' bruttissimo Vero? Allora Facciamo una cosa Ascoltami Sì Dai sentiamo cosa dice Da ora in poi la facciamo vedere solo a fine video Perché così i consolini si dimenticano di quanto è brutta Ok Dall'alto non ti rendi conto quanto è brutta e sembra fighissimo Accetto 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 Così te la fai vedere timidamente a fine video Io voglio dire una cosa È ok Che sarà la torre più alta e più brutta di tutta YouTube su Raft Ne sono sicura Sono sicura di entrambe le cose Sia dell'altezza Ah ma noi però a fare le cose brutte Cioè ci viene proprio naturale Vero Siamo proprio bravi Sì siamo davvero bravi Un talento innato Abbiamo un problemino Dimmi Abbiamo finito per davvero le scrap E li ho già prese anche una volta dai detritti Ah no Quindi non possiamo neanche far male in nessun modo come tipo di materiale È un grosso problema A me sembra che l'orizzonte ci stia per inghiottire Vero Sì mi sta facendo po' paura Ci vuole mangiare Mi sta capito mettendo un po' di inquietudine Te lo dico eh Eh sì fa un po' di paura Non è bello che diventi così grosso eh Guarda guarda è un mattone gigantesco Sembra che stia capito per arrivare l'oscurità a prenderci Oh no Guardate quanto è diventato tutto minuscolo Niente vedo Rosetta Che sicuramente starà mordicchiando qualcosa da qualche parte Perché non lo metto cercando di mangiarci la torre Perché non vuole che ce ne andiamo Se sta mangiando la torre siamo fregati Perché può collassare tutto io te lo dico Crollare da momentane Sì sì può crollare tutto per colpa di Rosetta Dimmi Sparita No è sparita Sì 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 è da contatto sta mordicchiando qualcosa Eh buttiamoci giù Vediamo se è qua Rosetta Ciao abbandonati Rosetta 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 Ehi Torna da noi Ti sto preoccupando dove sei? È scomparsa Oh finalmente è un po' Ma povera Eh lo so Com'è? Però è un po' una spina nel fianco lungo andare Eccola 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 Era mordicchiare la via della salvezza Magari stava dormendo un po' Mi fai di come dormono gli squali? Non dormono O dormono Certo che dormono Come fanno? Si appoggiano nella sabbia dei fondali marini e dormono Oppure rimangono a fluttuare nella Quando lo so come dormono Sto dicendo festeria Non mi sono mai posta questa domanda Fluttuare nella Dammi il tuo telefono aspetta Cioè come dormono gli squali? Ora lo cerco Perché dobbiamo sapere come dorme Rosetta È una cosa fondamentale per andare avanti Cioè sinceramente Non so come ho potuto vivere fino ad ora Senza sapere come dormono gli squali In effetti io non so come dormono gli squali E' certo che non lo sappiamo Aspetta O i pesci in generale Cioè come dormono? Come? Gli squali dormono Yahoo Allora Gli squali essendo pesci cartilaginei Sono privi di vescica natatoria E regolano il galleggiamento Grazie ad un grosso fegato ricco di oli Che ne abbassa nel peso specifico Stai morendo di sete Grazie Giusto per non morire proprio qua Allora i consolini di noia Esatto Nonostante questo sono ancora negative È scritto in un italiano che non comprende Devono ruotare in continuazione Per non affondare Il movimento continuo serve anche a garantire la respirazione Tuttavia anche in questi casi Gli squali dormono E lo fanno riposando Un emissorio cerebrale alla volta E mantenendo attivo l'altro Capito? Cioè hai capito? Cosa fanno? Praticamente Rosetta Spegne a metà del cervello E l'altra metà la tiene attiva Per continuare a galleggiare Mentre dorme Quindi non si appoggiano nei fondali No rimane a metà galleggiando Però ha un occhio spento e l'altro acceso Tipo E Rosetta? Sì parlami da questa parte Perché ti sento so Bellissimo Stiamo facendo queste cose Bellissimo Quello che dormono a metà Tormono a metà Che non si riposano mai Galleggiano Non si riposano mai A metà a metà Praticamente ti spegni metà cervello Capito? Però sarebbe una figata Perché rimani a fare un sacco di cose Però nello stesso tempo stai riposando Esatto Una figata Sono più furbi di noi Sì 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 Rosetta è migliore di noi Sopravviveranno al genere umano Io te lo dico Ho trovato in una cesta un po' di scrap Credo che basti per un'altra sessione Ti ho dimenticato di averla E l'avevo lasciato in questa Quindi sì Mi ero totalmente dimenticato Allora ci serve un po' di cocco in più Sinceramente Perché altrimenti Non so come facciamo Ci modiamo di sette lì in alto Ce ne prendiamo altri dieci E faccio rivedere la torre Inizia a diventare bella grande Inizia a diventare bella grande Eh sì Guarda Rosetta lì dove ha mordicato Ho sbagliato punto Deve puntare un pilastro No l'avevo già fatto quello eh Ah sì? Ok Cioè dall'inizio dell'episodio Guarda Saliamo le scale eh Tutti insieme Salgo 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 le scale Perché devi sempre cantare? Vado verso il cielo Cioè vuoi proprio farci chiudere i video Vedrò l'orizzonte tutto nero E Rosetta dormire con metà cervello spento L'altra metà però rimane accesa E la usa per farmare cesso su Clash Royale Non c'entrava nulla Allora non può giocare a Clash Royale Ha le pinne e non ha le mani Con i denti? No non può Ho le testate non lo so Con il naso Sarei molto brava in Arena 2 Da quando è uscito il gioco E scioppa eh Perché scioppa sempre Dici che scioppa Sì sì Vende il nostro legno Ai mercanti E con quei soldi scioppa le gemme Per farsi i bauli E dice che forse tra due anni Raggiungerà l'Arena 3 Sì sì Sarebbe più conveniente per lei Comprarsi una protesi per le braccia Invece che continuare a sciopare le gemme Però Non c'è ancora arrivato No non lo capisci Non è autocritica Non è autocritica Cosa stiamo dicendo in questo video Allora ragazzi Non ve lo faccio vedere Perché è fantastico Siamo sopra le nuvole Siamo arrivati sopra le nuvole Allora Prima di tutto guardate le nuvole E le vedete sotto Sì sono le nuvole Ma vi voglio far notare una cosa Si vede Il quadrato dell'oceano Lo vedete? Si vede tutto il quadrato Dovete che c'è tutta la linea Questa linea bianca Proprio E si vede poco Però spero che la notete Sette sete sete Grazie Prima che muori a metà Ok Guardate bene si vede Cioè praticamente con questa torre Siamo riusciti A delineare Tutti i confini della mappa Perché adesso sappiamo Esattamente Quanto è grande Che è un quadrato E infatti Potrebbe anche essere un rettangolo Tipo E infatti E infatti noi vediamo Anche il nostro Cioè la nostra Via della salvezza Che arriva fino alla fine Vediamo proprio tutto Fino alla fine E figata Guarda quanto ce l'ha mangiato Rosetta però Si Uno Due Tre Forse ce n'è anche uno In fondo in fondo Che non sono sicuro Forse sono in tour a quattro E adesso abbiamo Il confine della mappa Abbiamo finito Abbiamo trovato tutta La fine del mondo Ti rendi conto È bellissima sta cosa È una bella scoperta Sì Sappiamo benissimo Con la mappa Poi allora Se guardi in alto Guardi in alto Tutto su 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 Vedete ci sono ancora Qualche nuvola O cose così Ma io non penso che finisca Verso l'alto Ti dico la verità No 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 O magari poi ci sarà Una specie di cosa Trasparente Ma secondo me Non è neanche troppo interessante Cioè l'importante Era vedere Tutta la fine del mondo Esatto Secondo me Ci possiamo ritenere Soddisfatti Ci facciamo un bel tuffo Incredibile Sei pronta? Pronto vai Oddio 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 Ma ho pari che sbattessi Da un momento all'altro Ah facciamola rivedere Ah da lì giusto Giusto sì Ci vediamo Hai ragione Voglio vedere Se riusciamo anche A inguardarla tutta Almeno da così distanti Ci mettiamo qui In prossimità E no non riusciamo a inguardarla tutta Neanche così Più o meno Così così È davvero brutta ragazzi Davvero brutta Cioè se proprio voi pensate Che sia brutta Cioè non vi sentite In imbarazzo a dire Che è brutta Noi non ci rimaniamo male Lo sappiamo Esatto esatto Quindi cioè se volete dire È brutta Però Però è figo Che abbiamo scoperto Tutte alla fine del mondo Totalmente al 100% Quel quadratone così È stato figo Quel quadrato così della mappa È stato fighissimo Quindi almeno siamo stati bravi Ad andare davvero davvero in alto Esattamente Comunque ci fermiamo così Quindi questo è l'ultimo episodio L'episodio numero 7 Dai direi che è andata bene come serie Ci siamo dovuti arrangiare un po' Perché il gioco comunque È davvero quello che è per ora Io penso che sia anche giusto Dire due paroline alla fine della serie Perché bisogna Bisogna esprimere le proprie emozioni Ci tenevo a dire Che mi sono molto divertita Molto divertita a fare questa serie Molto divertita a dare delle storie agli squali Che ho notato poi con molto Molto piacere che i consulini Mi hanno seguito E mi hanno consigliato le peggio cose E sono contenta che abbiamo fatto Sia la via della salvezza La torre Pasqualmo Abbiamo fatto davvero davvero tante cose È stata una delle serie più divertenti Che ho registrato Sì sì Mi è piaciuto È vero Ci ha accompagnato Ci fa davvero piacere Anche a noi ragazzi Ovviamente dispiace terminarla Cioè Lo so che a voi dispiacerà Ma dispiace anche a noi Quando dobbiamo terminare una cosa Però Dobbiamo essere razionali Dobbiamo essere Cioè La nostra parte del lavoro È capire quando l'intrattenimento Inizierà a mancare Quindi sappiamo benissimo Che se adesso continuassimo A fare delle costruzioni A fare delle cose varie Inizierebbe sempre piano piano A diventare sempre più noioso Fino a diventare Esatto Una mezza schifezza Invece noi vogliamo continuare A portarvi A portarvi contenuti di qualità Anche se magari faranno meno views Di raft Ci interessa poco Perché ci interessa A portarvi cose divertenti E quindi speriamo Che apprezzerete Strandedip Ricordatevi di votare Perché ci sarà un sondaggio Da qualche parte Anche nei commenti Qualunque cosa Ti farci sapere In tutti i modi possibili Noi ci teniamo tanto Secondo me sarà divertentissimo Fare strandedip Tutti assieme Cercare di sopravvivere assieme Con i vostri consigli E secondo me Ne potremo fare davvero Delle belle in quel gioco Esattamente Beh ragazzi Se ci piace così Se ci piace Diciamo un like E se è la prima volta Che vedete un nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti